Benvenuti in un nuovo video! Oggi siamo qui per spacchettare una mega box ovviamente già sappiamo il contenuto però ci stava perché all'incirca ho ordinato 18 snack sono tantissime tantissime novità, tutti prodotti nuovi non tanto americani a me l'ho fatto? due giorni fa, vabbè loro alla fine si stanno quasi vicino da noi in totale ho speso 39 euro da, io mi diventino sempre panificio, buoni dentro ovviamente 39 euro comprese di spese di spedizione, quindi alla fine niente perché per tutti questi prodottini che costano una cifra abbiamo risparmiato tantissimo, quindi a tantissime cose prezzi convenienti io ogni volta che mette nel sole so sempre speriamo che non porta niente di nuovo perché io ogni volta so tentata ok, eccola qui madonna mia romana non è una mystery box apriamo e poi peschiamo un po' come degusta box da loro ne abbiamo preso da loro la mystery box quella da 50 euro un paio di mesi fa ma no, era Pasqua vi lascio tutto giù nel liquido capiamo fisco io vai oh tada tada l'abbiamo provato nell'altro brownie giotto questo vero com'era? ehm eh già non mi ricordo vabbè vabbè dovremmo andare a vedere se mi sbaglio nocciola crema Ferrero ovviamente non mi ricordo comunque eccola qui sono delle palline noi abbiamo provato brownie pure già le provammo no è la nocciola normale? no normali sono un sacco di crudoni questo vai rice crispies kellors mmx mini ovviamente ovviamente vedrete anche i video assaggi ovviamente questa è giusto la prefazione oddio me li aspettavo più grandi no ritos abbiamo provato questa nuova versione di patatine che somiglia un po alla pasta però erano di altre marce non ce li ricordiamo quindi andate a vedere che diventa impronciabile doritos honey bbq che può ricevere pure era honey bbq lavoro però era un'altra marcia ho preso su cibo di sanno sì sì ma andate a vedere tu devi andare ma iniziamo già a confonderci siamo all'inizio io questi li ho presi aspetta ma come sono limone no no penso allora cioccolato bianco ripieno con nocciole granella al gusto di limone adoro vedi in collaborazione con dolce gabbana noi abbiamo detto che però sono i baci perugina che sono un bel un po' di cose al tema baci ecco qua chissà non vedo l'ora di leggere la frase che faccia che faccia attacca a me mamma quanto sofferi cioè io stavo ma sono pagata pochissimo cioè 300 grammi milka maxi crispy yogurt quindi vabbè conflitto mi ricordo un po' quella lì dell'anno perché ho provato bra recentemente ma ora chissà com'è sabrosa adoro adoro no 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 vai io sì c'è anche una patata in ottobre ottobre mamma quelle prese sì ho detto balliamo è un waffle adoro al cioccolato e la lotus al cioccolato l'ultima cosa è il cioccolato fondente sicuramente gli ultimi cioccolato se riproviamo bocciato però vediamo un po' io ancora non devo provare il lotus al scotto no io voglio provare il scotto al lino sì spero che porterà tipo qualcosa a tema al lino così io penso proprio di sì ok vanilla ma forse mi feroce zucca no vanilla vanilla quindi è solo colorante quindi questo sarà aggiunto all'ultimo video il terzo video sarà sì sono degli oreo normali anche questi sweet paprika sempre d'olivos però questo tipo tubettini sì però sono molto piccoli sono di più quindi è una cosa di salato kit kat kit kat crunchy salted caramel pop corn adoro ma io non vedo l'ora vai non guardare non guardare sì che fina allora questa nel frigo non la toccare vai nesle galak nocciola all'interno il ripeto di nocciola cioccolato bianco è il peggio ah comunque l'ho pagata poca euro perché qua di rocci è preso adoro adoro maronna prego ha fatto mia sorella non ti permettere non lo prendere è cannella no raga dovevo prenderlo l'abbiamo provato tutti quindi bisognava prenderlo duplo cannella speculus no speculus ma comunque è cannella eccolo qui è molto dolce è molto dolce eh ho toccato tutte le cose che forse sa cosa non sembra dolce come me vabbè evito lascio alla fine ah pure il peggio è diverso sì perché questo è cartone tipo carta adoro maia questa Mirka limited edition solo novità caffè caffè e dei biscotti due euro niente mamma veramente fa vedere si chiede si chiede ok e poi raga vedete il video assaggi eh eh questo è giusto questa del marzo del 2022 ce n'aveva tanto maia 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 non so se prenderla maia non prenderla maia 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 è enorme per me ecco i valori mmm citos mmm gusto pelo pelo tasos formaggio oddio secondo me questi sono super sfiziosi prego ok ci sono due bombe sono rimasta no c'è ancora alto dove mi vado attorno anche ah questa questa è meno sciolta sempre limited edition vai pop corn pop corn e caramella e patatina questo è pop corn e caramella sempre milka maia raga ma quanto sono quelle è il caramello così è pure questo io vado attorno però vorrei che mi spira di più quella caffè e i biscotti che faccio? ci sono due salati e un dolce cosa prendo? un salato e così poi lasciamo salati due ahhhh no sveglia arizona combo 3 nachos chai nachos chai nachos chai nachos cheese no vabbè ma c'è anche un altro gusto chissà qua sono anche ma fai vedere il vetro perchè è più interessante quindi ci sarà qua la salsa e farei preso il potere no vabbè ma quanto è bella c'era anche l'altra ma era un po' più calda secondo me ha paura della sua quindi dovrei trovare il il dolce si eccolo dan 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 ma all'interno ci saranno anche le frasi ovviamente un monster è bravo vabbè no raga crispy con crema vabbè questa è una delle novità questa è proprio notte stellate No vabbè, sono troppo contenta Non vedo la ripropa Io non sono fan Andiamo con il dolce Lasciamo la bomba Kit Kat Zebra Dark and White Carino, spezioso Giusto per Ma adesso Sganciamo la bomba E' la mia gioia perché è una novità salata E' proprio una novità E' diciamo salata No, è salata E' no Ho visto Oh, è pure la grande La confezione mi piace un sacco Con questi peschi Lo sai che mi ricorda un po' Coco Gusto, lime e cocco Questa è proprio la novità Cotti al forno Non fritti Sono bellissime Adoro, l'avevo lì Bella No, io appena la bui sento Abbiamo preso cose selezionate Ma particolari Nuove Perché ormai Non possiamo più Ammussare Mystery Box Volevo anche Perché alla fine ci sono Vari box Vari box Vari box Vari fasce di prezzo Però sinceramente Non conviene Preferisco Sì, voglio anche spendere 50-60 euro Però Prendo io i prodotti Perché adesso La Mystery Box Abbiamo provato talmente tanti Che è molto facile che possano uscire I prodotti che già abbiamo provato Io felicissimo Dove vedo l'ora Dove vedo l'ora Questi tre video bomba Spero però vi faccia piacere Che ci saranno altri video Di questo genere Speriamo Noi facciamo senso Che a noi ci piacciono Ok E speriamo che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao